Buongiorno, io mi chiamo Casula Giampaola, vengo dalla Sardegna, dal sud della Sardegna, di Glesias, sono qui già la terza volta che vengo per fare questo lavoro ai denti e devo dire che sono non soddisfatta, soddisfattissima, ho trovato delle persone squisite, simpatiche e cosa posso dire di più? Sono felicissima del mio sorriso e di come sono stata trattata, la Moldavia è molto bella, però sono molto belli anche i medici, le interpreti e gli infermieri, io ringrazio tutti di cuore perché è stata proprio una bella esperienza, grazie di nuovo, grazie.